La Santa dai tre amori, Santa Caterina da Siena. In occasione della festa di Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia, leggerò ora una trascrizione di una celebre omelia che padre Thomas Tinn, suo illustre confratello dominicano, ha pronunciato in sua memoria nella Basilica di San Domenico a Bologna. Oggi, 29 aprile, è la festa di Santa Caterina da Siena, ed è una festa anzitutto dell'Ordine Domenicano. Quando ci si gloria nel Signore, allora è una realtà santa e si dice giustamente che nei Suoi Santi il Signore incorona sì i loro meriti, ma che i loro meriti attingono ai doni della Sua Santa Grazia. Cari fratelli, se questo nostro orgoglio è motivato sopranaturalmente dalla gioia che una nostra consorella sia stata insegnita di tante grazie, penso che sia davvero un orgoglio santo e che sia occasione di una grande letizia. Non solo di una letizia sterile, per così dire esterna, che non tocca nessun cuore, ma di una letizia che ci sprona ad imitare, per quanto c'è possibile, l'esempio dei Santi. Ecco perché il Signore suscita nella Sua Santa Chiesa questi modelli di vita. Non solo per dare esempio, ma principalmente per dare gloria e onore a se stesso, e questo è il fine ultimo di tutta la creazione, dare gloria e onore a Dio. Non c'è cosa più bella, che lodi più profondamente e perfettamente il Signore, di un'anima santa. Voi conoscete pressa poco i dati della vita di Santa Caterina. È nata nell'anno 1347, morì a 33 anni, giovane, giovanissima. Si fece santa, con sorella nostra nel Terzo Ordine Domenicano. Gloria della famiglia Domenicana, gloria di tutta la Chiesa, gloria della nostra patria, dell'Italia, perché assieme a San Francesco di Assisi, Santa Caterina da Siena è proprio patrona d'Italia. È patrona in particolare della capitale del mondo intero, cioè della città di Roma, della città del Papa. Ecco tante occasioni di gioia per celebrare questa festa di Santa Caterina. Leggendo una vita della Santa fatta da un nostro confratello, mi sono ispirato a questa tripartizione che divide la vita di Santa Caterina in tre parti, tre amori, l'amore per Gesù Cristo, l'amore per la Chiesa, l'amore per le anime. Vedete qual è il rapporto di questo triplice aspetto di un unico amore, di un amore così profondamente Domenicano. Qui, davanti alla tomba di San Domenico, è giusto sottolineare che Santa Caterina fu sempre sua figlia, perfettamente fedele e realizzò perfettamente la spiritualità di quella carità che apostolicamente ci spinge a predicare la parola del Signore. Poiché veritas libera bit nos, la verità, solo la cattolica verità, potrà liberare le nostre anime dall'inferno. L'ordine Domenicano davvero ha una spiritualità sempre attuale, perché il suo scopo è salvare le anime tramite la predicazione dottrinale. Salus Animarum per Doctrina e Predicazione Ahimè, gli sconquassi e terremoti spirituali di questi ultimi tempi non hanno risparmiato nemmeno il glorioso ordine di San Domenico. Miei cari, aiutiamoci a vicenda, noi frati, voi fedeli, che tanto bene ci vogliamo a vicenda nell'autentica Chiesa di Cristo. Aiutiamoci con la nostra preghiera, con i nostri sacrifici, con la nostra attiva fede. Aiutiamoci ad essere fedeli, sempre fedeli, in modo particolare con quella certezza di Santa Caterina che solo nella Santa Chiesa vi è la vera fede. La fede di Santa Caterina nella Chiesa è una fede concreta, non una fede campata per aria. Io, sì, dicono, credo nella Chiesa perché credo nell'anima della Chiesa, che è lo Spirito Santo. Sì, certo è qualcosa, però non basta. Bisogna credere nella Chiesa animata dallo Spirito Santo, alla Chiesa Santa, ma bisogna credere anche nella Chiesa, oso dire peccatrice, perché, non lo dico io, l'ha detto San Pier Damiani, la Chiesa è santa ed è peccatrice, finché vive qua giù sulla terra. Bisogna amare quel prodigio dello Spirito Santo amore, che è la santificazione dei peccatori. D'altra parte, Gesù ci ha detto questo, io non sono venuto per i sani, perché i sani non hanno bisogno del medico, sono venuto per i malati. Ci si turba per le piaghe nella Chiesa. Anche Santa Caterina, sarebbe straziata, al giorno d'oggi avrebbe pianto delle notti intere davanti al crocifisso. Però, nel contempo, non bisogna mai scandalizzarsi di nulla nella Chiesa, perché lo Spirito Santo, che ci è stato dato in dono, è una fonte di acqua che zampilla per la vita eterna, e alla vita eterna ci condurrà, purché noi sappiamo lasciarci condurre. Questo è un aspetto così bello della vita mistica, non tanto fare per iniziativa nostra, quanto piuttosto essere docili all'impulso dello Spirito Santo. Dice infatti San Tommaso, traducendo dal latino, i doni dello Spirito Santo, a differenza delle virtù, che sono disposizioni ad agire anche sopranaturalmente, quando si tratta di virtù infuse, sono delle disposizioni non ad agire, ma lasciarci agire. Ahimè, in italiano non ha alcun senso, si dice piuttosto lasciarci guidare dallo Spirito Santo che è in noi. Pensiamo un pochino, cari fratelli, da alcune tappe della vita e santità di Santa Caterina da Siena. In primo luogo, l'amore per Gesù Cristo. Mi pare molto importante questo aspetto della sua vita. Non ci si fa, Santi, se non si percorre quel ponte. Mi piace tanto questa bella espressione caterignana, che è l'umanità di Gesù. Santa Caterina conclude tutte le sue lettere con questa esclamazione. Gesù dolce, Gesù amore. È così bello questo amore suo per Gesù, Redentore dell'umanità. Gesù mediatore tra gli uomini e il Padre suo che è nei cieli. Gesù, la riconciliazione nostra. Gesù, la nostra pace. Non si può avere pace se non tramite Gesù. La pace c'è in Dio, ma non si può avere Dio se non tramite il Figlio suo, Gesù Cristo. Chi dice di amare il Padre e non ama il Figlio, dice una bugia, perché il Figlio è stato mandato dal Padre. Lo sapete bene dal Vangelo di San Giovanni. Quanta differenza per nostro Signore vedersi ripudiato dal popolo dell'antica alleanza, dal popolo che pure era depositario delle promesse, dal popolo che diceva di credere nel Padre, ma non credeva nel Figlio. Santa Caterina sottolinea questa necessità della mediazione cristica, mediazione della natura umana di Cristo. La splendida visione di Cristo che la fanciulla ebbe a sei anni, pensate, una ragazzina ancora piccolina, lasciò in lei una profonda impressione. Ebbe la visione di Cristo pastore delle anime, di Cristo che era re degli apostoli, Cristo attorniato da San Pietro, San Paolo, San Giovanni. In quel momento capì che Gesù voleva da lei una missione apostolica, cioè una battaglia spirituale per la salvezza delle anime. Caritas urget nos. Cari fratelli, Santa Caterina ha capito perfettamente questa volontà del Signore Gesù. È entrata nel terzo ordine regolare all'età di 17 anni, ancora molto giovane, come ci dice la lettura della seconda lettera ai Corinzi di San Paolo. Tutte le nostre anime devono essere anime verginali, vergini pure, delle vergine caste, presentate dall'apostolo San Paolo. Vedete quanto l'apostolo voleva bene ai suoi cari cristiani. Gli esortava, vorrei presentarvi a Cristo come una vergine che deve essergli data in sposa, una vergine casta. Santa Caterina ha capito che quel suo amore per Gesù non poteva essere condiviso con nessuno e si consacrò a Dio nella sua intatta verginità. Com'è bello questo anelito all'amore completo, totale. amare Dio, amare il suo Cristo con un cuore del tutto indiviso. È stata ricompensata tanto da Gesù. Si dice persino che a volte la sua cella, all'inizio di questa sua vita monastica, si chiuse quasi come in un eremo nella sua stanza, nella casa dei genitori. La sua stanza era illuminata da una luce sopranaturale e che il Salvatore la visitava e che, cosa bellissima, pregavano insieme l'ufficio divino. Pensate, Santa Caterina diceva una parte del Salmo e Gesù ne diceva l'altra e così via. È un privilegio concesso a pochi pregare in casa assieme a Gesù visibile. Un altro aspetto della pietà cristica di Santa Caterina è la sua fame eucaristica. Santa Caterina diceva che sentiva un male fisico quando non poteva comunicarsi. Si comunicava, possibilmente, ogni giorno. Allora era una prassi molto inconsueta. A tal punto aveva bisogno di Gesù nell'eucaristia. Non solo aveva fame dell'eucaristia, aveva anche la sazietà dell'eucaristia, nel senso che diceva «Se io posso comunicarmi, ogni altro cibo per me è nulla». Infatti si dice che per tutta una quaresima sia rimasta senza mangiare, si sia solo comunicata. la prighiera finale del post comunio della messa in sua memoria allude proprio a questo fatto del sostentamento, anche fisico, miracoloso, che la Santa trovava nella divina eucaristia. Un ultimo aspetto di questo suo amore per Gesù è la sua stigmatizzazione. Santa Caterina ebbe quella stupenda visione del Salvatore con dei raggi che si sprigionavano dal costato, dalle mani e dai piedi di Gesù crucifisso e raggiungevano proprio quegli stessi luoghi del suo corpo. Ma Santa Caterina ha chiesto a Gesù che queste piaghe rimanessero più interiori che esteriormente visibili. Soffriva assieme a Gesù i misteri della sua passione. Più di questi episodi particolari che nell'insieme fanno un quadro davvero stupendo della spiritualità veramente cristocentrica di Santa Caterina da Siena, quello che ci interessa maggiormente è la necessità della mediazione di Cristo a ogni grado di ogni vita spirituale e mistica. È un malinteso quello che spesso succede ai nostri tempi in questo clima di sincretismo religioso. Si dice ci sono mistici in Occidente, ci sono mistici in Oriente, si parla dei vari santoni di ogni estrazione, santoni che sono un po' sospetti per dire la verità, miei cari, perché non c'è altra via che quella di Gesù. Qualche tempo fa lesso un libro di un attore relativamente moderno degli anni 30, il famoso Aldous Huxley, che scrisse anche una vita di quella cosiddetta eminenza grigia, padre Iosef, Cappuccino, segretario del famoso cardinale Richelieu, che era da un lato un abile, abilissimo e persino squisitissimo politico e nel contempo era anche un grande mistico. Questo autore, che però non è credente, per sua sfortuna, questo Huxley, descrive appunto la vita mistica di questo padre Iosef e tra le altre cose dice che, in fondo, il cristianesimo devia, secondo lui, dalla strada della vera mistica teocentrica, perché il mistico dovrebbe inabissarsi solo in Dio increato. Secondo quest'autore, le creature per il mistico dovrebbero scomparire, perciò coloro che seguono queste teorie dicono che il cristiano è fuori strada se si serve dei sacramenti, dell'intercessione dei santi, dell'intercessione della Madonna, della mediazione del corpo di Cristo, della mediazione anche del corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. In tal modo si allontanerebbe dalla mistica veramente teocentrica. Oimè, miei cari, non c'è mistica teocentrica che non sia anche cristocentrica. In fondo, l'opposizione tra cristocentrismo e teocentrismo è una delle solite opposizioni inventate dagli uomini moderni per confondere le idee. Non c'è opposizione fra mistica teocentrica e mistica cristocentrica. Perché dico questo? I mistici cristiani, senz'altro conoscerete Santa Teresa Davila, San Giovanni della Croce, hanno capito una cosa importantissima. Non si può contemplare Dio se non alla luce di Dio. Nella tua luce, o Signore, vedremo la luce. Salmo 36, versetto 10. Non c'è altra via. Quando uno prova a diventare mistico per suo sforzo, cade giù malamente. la prima condizione per la vita spirituale, non dico mistica, semplicemente spirituale, per muovere i primi passi, è l'umiltà. Non voglio essere severo nelle mie condanne, bisogna stare sempre nella verità. Ci sono state delle anime mistiche anche nel paganesimo. Tuttavia, quello che poteva pensare un pagano, cioè scambiare iniziativa sua per grazia di Dio, non se lo può permettere un uomo che vive nell'economia di Gesù Cristo nostro Signore, perché quell'uomo, istruito dal Santo Vangelo, sa che Dio si fece uomo, che Dio, che è la pienezza dell'essere, assunse il nostro non essere. Se voi pensate in chiave etomistica che l'essere è la base dell'intelligibilità, della conoscibilità, vedete come l'umanità di Gesù costituisce quella mistica inintelligibilità, quella mistica tenebra che però è condizione dell'umiltà, la quale sola conduce alla carità, ai doni dello Spirito Santo e infine alla beatifica visione del Paradiso. Vorrei sottolineare quello che dice Santa Caterina con la sua vita e Santa Teresa anche con la sua dottrina. Santa Teresa dice qualunque sia lo stato mistico di un'anima, il criterio di autenticità della sua vita mistica è che riconosca il bisogno della mediazione di Cristo. Non dobbiamo scambiare la creatura col Creatore ma riconoscere che le vie per raggiungere Dio in creato non sono vie nostre, di noi creature ma vie di Dio in creato che si serve della creatura che è l'umanità di Cristo per portarci a sé. Ecco, cari fratelli, e non c'è altra via. Io sono la via, la verità e la vita. I novatori potranno agitarsi finché vogliono, potranno dire che tutti si salvano, che non c'è bisogno della Chiesa, che non c'è bisogno di Cristo, che ci sono santoni qua e là. La verità è questa, la santità. La vita di grazia raggiunge l'anima solo tramite quella via che è il Cristo. Santa Caterina l'ha capito, Santa Caterina l'ha vissuto. Cari fratelli, vi cito solo brevemente gli altri due amori di Santa Caterina, amore per la Chiesa, amore per le anime. Vi dico solo questo rispetto alla Chiesa, all'amore al corpo mistico di Gesù. Se uno ama Gesù e non ama la sua Chiesa, è ancora bugiardo, così come amare il Padre senza il Figlio, voler amare il Figlio di Dio nella sua umanità storica senza amarne l'umanità mistica. Diceva giustamente San Cipriano queste belle sante parole che mi sono rimaste sempre impresse. ripetetele spesso alla gente sfiduciata che non crede nella Chiesa. Chi ha Dio per padre deve avere la Chiesa per madre. Santa Caterina amava il corpo mistico di Gesù lacerato anche allora, benché con lacerazioni diverse da quelle contemporanee. Quanto avrebbe sofferto Santa Caterina anche ora? Scriveva a un suo confessore che forse era lo stesso beato Raimondo di Capua suo direttore spirituale. Padre sapesse lei io deperisco anche fisicamente per quella sofferenza che mi causa l'allacerazione della Chiesa. Infatti i papi erano ad Avignone schiavi del re Francia bisogna dirsele chiare le cose come sono e Santa Caterina che cosa fa? Prega si sacrifica e poi scrive anche ai potenti vedete c'è una sublime quasi fanciullesca umiltà in questo scrive anche ai re ai sovrani ai principi allo stesso Santo Padre si può dire che il Santo Padre anche al giorno d'oggi ha tanti nemici moltissimi poi ha parecchi adulatori ma di veri amici ne ha ben pochi diciamocelo pure quindi ci sono i nemici aperti appena il Papa dice qualcosa è subito criticato poi ci sono tanti che lo adulano tutto quello che fa il Papa va bene il Papa non ha bisogno di adulatori ha bisogno di veri amici come Santa Caterina che cosa diceva Santa Caterina al Papa gli scrive dolce babbo come una figlia piena di tenerezza dolce babbo dolce Gesù in questa terra siate forte Santo Padre siate forte implicitamente che cosa gli rimproverava la debolezza ed aveva il coraggio di scriverglielo mentre gli altri lo adulavano Santo Padre fa bene con il re di Francia bisogna andare d'accordo no Santo Padre siate forte e tornate a Roma perché Roma è la sede di Pietro ecco cari fratelli come bisogna essere amici con amore ma senza adulazioni dire le cose come stanno con umiltà con dolcezza Santa Caterina non ha detto il Santo Padre è inutile no gli ha detto Santo Padre siate forte siate santo non pensate a cose di questa terra agli affari diplomatici pensate alla salvezza delle anime che è il vostro compito di pastore delle anime medesime è così che bisogna amare il Papa e la Chiesa ultima meditazione la visione dell'anima che Santa Caterina ha avuto dal Signore e la vide un giorno la bellezza dell'anima in stato di grazia quando la fece talmente innamorare delle anime che capì la preziosità del sangue di Gesù che ci lava ad ogni peccato come è bella questa sua concezione della confessione del sacramento della penitenza dice nel momento stesso in cui un'anima è assolta è come se fosse aspersa dal sangue di Gesù e non c'è peccato che possa resistere a questa potenza infinita di salvezza e di intercessione di quel sangue che grida al cielo più potentemente ancora del sangue dell'innocente Abele Santa Caterina ha questa visione mistica del sangue di Gesù e del fuoco dello Spirito Santo grande era la sua sofferenza per le anime che si incamminavano verso la perdizione quando i confessori assistevano delle anime impenitenti in punto di morte si rivolgevano a lei e dicevano prega prega che quell'anima si salvi e Santa Caterina cadeva giù davanti al crocifisso faceva delle orrende penitenze si prostrava pregava e otteneva generalmente la salvezza di quelle anime cari fratelli che Santa Caterina ci insegna ad amare veramente Gesù la Chiesa e le anime veramente non con la concupiscenza di questo mondo i falsi riformatori sono sempre i mondanizzatori della Chiesa il lupo vestito d'agnello si riconosce subito quando pretende di riformare la Chiesa come Lutero staccandola dall'obbedienza al pontefice affidandola alle prepotenze dei principi secolari questo è un falso riformatore le stesse cose del tempo di Lutero si riproducono oggi tali e quali vogliamo aprirci al mondo non rimanere fedeli come in quelle epoche in cui certe cose sopranaturali andavano ancora bene adesso siamo razionalisti il vero riformatore non si stacca dal Papa si attacca ancora più fortemente che mai al Papa e poi magari con tanta sofferenza tanta umiltà tanta dolcezza ma anche tanta fermezza e costanza implora Babbo dolce Babbo dolce Cristo in terra siate forti santificate voi stessi e la Santa Chiesa assieme a voi chiediamo questo Santa Caterina che ci dia veramente un autentico amore a Gesù un autentico verace tradizionale amore per la Santa Chiesa e amore per le anime che solo nella Chiesa possono trovare pace e salvezza e così sia a